Colpo di stato militare per ora incruento in Niger, il mondo chiede la liberazione del presidente Bazoum. L'ottimismo di Zelensky, siamo pronti a reintegrare rapidamente la Crimea nell'Ucraina. La Federal Reserve americana aumenta i tassi di interesse, attesa la stessa decisione anche da parte della Banca Centrale Europea. No al colpo di stato, lo gridano le migliaia di manifestanti scesi per le strade della capitale del Niger, Niamey, al sossegno del presidente Mohamed Bazoum. E' proprio un golpe per ora incruento, quello in atto nel paese africano, dopo che Bazoum è stato trattenuto dalle guardie presidenziali. L'ONU, l'Unione Africana, l'Unione Europea, la Francia, gli Stati Uniti e anche l'Italia hanno condannato il colpo di stato e chiesto il rilascio immediato del presidente e della sua famiglia. Colpi di arma da fuoco sono stati uditi mercoledì nella zona intorno alla residenza presidenziale. Dopo aver sciolto governo e Parlamento e chiusi i confini, i militari golpisti del Niger guidati dal colonnello maggiore Amadou Abdramane hanno dichiarato di rappresentare il Consiglio Nazionale per la salvaguardia della patria. La capitale, Niamey, sembra comunque per il momento tranquilla. Il presidente del Benin è in viaggio per mediare come rappresentante del blocco economico dell'Africa occidentale. Il presidente nigerino Bazouma fa parte di un gruppo sempre più ristretto di leader filo-occidentali nella regione del Sahel. Arrivato alla guida di un paese povero e devastato dalle violenze, è stato eletto due anni fa nel primo trasferimento di potere pacifico e democratico del Niger dalla sua indipendenza dalla Francia nel 1960. Ottimismo sul fronte ucraino, nonostante quasi due mesi di controffensiva con ben pochi progressi. Nel suo consueto messaggio alla nazione, mercoledì, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che si stanno raggiungendo buoni risultati e che presto se ne vedranno i loro frutti. Zelensky non dimentica certo la Crimea. Gotujmo iperelik di ocupaційni kroków dla Krimu, kompleksnych, i bezpeckowych, i ekonomicznych, i sozialnych. Mi możemy dowolę szybko reintegruwati Krim w держavnu tkaninu Ukrainy. Właśnie, wje zaraz okupantam warto подумati tam, u Krimu, Właśnie, że pokał krimski miśc jeszcze chociaż tak siak pracuje, trzeba im powertować do domu, w Rosji. Durante la controffensiva, l'Ukraina ha riconquistato finora 192 km2 di territorio, ma caro prezzo in termini di vite umane. La vera novità strategica, tuttavia, jest representata dagli attacchi diretti alla penisola di Crimea, jak, ad esempio, l'attentato al ponte di Kerk. Poco dopo l'invasione russa dell'Ukraina, la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha consegnato dei documenti al presidente ucraino Volodymyr Zelensky. La cartella, dei colori della bandiera ucraina e dell'Unione, traccia la strada per portare Kiev nel blocco europeo, ponendo l'accento sui requisiti da soddisfare per diventare uno Stato membro, primo fra tutti, la lotta alla corruzione. L'Ukraina ha gli ultimi posti nella classifica dei paesi più corrotti d'Europa, di poco sopra la Russia, ma la posizione attuale è comunque un enorme balzo in avanti rispetto a un paio di anni fa. Il paese ha cercato di attuare misure anticorruzione già prima della sua recente candidatura all'Unione, provvedimenti che sono stati resi necessari da un decennio turbolento e chiesti a gran voce dalle proteste che hanno scosso il paese nel 2013. Infatti, più aiuti finanziari arrivavano, più la gente si preoccupava di dove andassero a finire. In un anno la percentuale di chi ritiene la corruzione inaccettabile è passata dal 40 al 64%. Kiev afferma di voler aderire all'Unione entro i prossimi due anni, ma potrebbe impiegare decenni per soddisfare le richieste di Bruxelles. Lotta all'inflazione La Federal Reserve americana ha alzato i tassi di interesse al massimo degli ultimi 22 anni. La decisione di aumentare i tassi di un quarto di punto percentuale, tra il 5,25% e il 5,5%, arriva dopo che un mese fa la Fed aveva interrotto il suo ciclo di rialzo dei tassi. Si tratta dell'undicesimo aumento dall'inizio del 2022, quando la banca centrale americana ha iniziato ad aumentare i costi di indibitamento con l'obiettivo di allentare la corsa verso l'alto dei prezzi. L'economia statunitense è rimasta solida nonostante gli undici rialzi dei tassi attuati dalla Fed. Il ciclo di rialzi dei tassi è più aggressivo degli ultimi 40 anni. Le assunzioni sul lavoro sono un po' rallentate, ma il tasso di disoccupazione è ancora vicino al minimo storico. L'aumento dei tassi da parte della Federal Reserve precede un ulteriore aumento anche da parte della banca centrale europea, sotto pressione per le critiche anche politiche, per porre fine a questa escalation infinita. Le banche centrali dell'Eurozona hanno riportato un forte calo della domanda di prestiti a livello più basso mai registrato. Stessa diminuzione anche per le domande di mutui per la casa. Tuttavia la BCE rimane determinata a riportare l'inflazione al di sotto dei recenti massimi storici, raggiungendo l'obiettivo del 2%, il che significa che l'aumento dei tassi continuerà. Vladimir Putin è alla ricerca di nuovi alleati. Alcuni leader africani sono arrivati in Russia per il vertice di due giorni che si aprirà giovedì a San Pietroburgo. Al centro dell'agenda una maggiore cooperazione tra Mosca e i paesi del continente, ma soprattutto le questioni legate alla guerra in Ucraina. In primis la sicurezza alimentare, minacciata dal ritiro della Russia dall'accordo sul grano. Ma Putin ha ripetutamente promesso grano russo gratuito ai paesi africani a basso reddito. C'è poi in ballo il futuro del gruppo Wagner nel continente, una questione urgente per i paesi che hanno stipulato contratti militari con la milizia in cambio dello sfruttamento delle loro risorse naturali. Si tratta del secondo vertice Russia-Africa dal 2019, ma il numero di leader presenti si è ridotto dai 43 di allora ai 17 di oggi, a causa di quelle che il Cremlino ha descritto come grossolane pressioni occidentali per scoraggiare la partecipazione. Emmanuel Macron è diventato il primo presidente francese e si è in carica a visitare Vanuatu durante il suo viaggio nei paesi del Pacifico. L'itinerario comprende anche la Nuova Caledonia e la Papua Nuova Guinea. Ma oltre al tradizionale benvenuto, si è verificato un evento inaspettato. Un terremoto di magnitudo 6,4 ha scosso la terra, a soli 95 chilometri dal punto in cui il leader francese è atterrato. Fortunatamente non sono stati segnalati danni. Macron si trova nell'area per rafforzare il ruolo della Francia nella regione. Grazie. 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 Grazie.